E' tutto pronto a Procida per la nona edizione della manifestazione culturale Portoni Aperti, promossa dalla Proloco, dal Comune e della Provincia di Napoli. Venerdì per l'intera notte si potranno visitare gli antichi palazzi dell'isola, molti dei quali nascondono autentiche meraviglie tra agrumeti, giardini fioriti e terrazze panoramiche sul mare. Tra le iniziative anche una serie di degustazioni tipiche ed un dibattito sullo sviluppo turistico ed economico dell'isola organizzato dall'Associazione Procida Portoni Aperti.